Oggi raga finalmente siamo ritornati con un aspetto speciale mia sorella è ritornata sul canale per andare a giocare ad un nuovo gioco che ultimamente sto portando molto spesso perchè mi stia piacendo veramente tanto ovvero minecraft Oggi lei farà la sua prima partita su minecraft per computer perchè lei gioca a minecraft gioca in realtà sul telefono ad un gioco che è tipo minecraft come è che si chiama? Perfetto comunque io vi ricordo prima di iniziare mi raccomando un sacco di like per il ritorno di mia sorella sul canale te come ti chiami perchè nell'ultima episodio non l'abbiamo detto quindi tanti non lo sanno Matilde Brava brava sa anche il suo nome incredibile Hai 9 anni giusto? Si Perfetto appena compiuti tra l'altro le hai compiti da pochissimo Io vi ricordo mi raccomando raga prima di iniziare come al solito un bel like per il video seguitemi su instagram raga mi raccomando mi chiamo capitalblazeroffice Magari riuscite a trovare anche qualche foto insieme a me e lei si forse ne ho fatta almeno una E ovviamente non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi video detto questo let's go Ok matti ci siamo abbiamo appena aperto minecraft e stiamo per creare un nuovo mondo solo per te dove te dovrai sopravvivere La prima notte Magari in futuro riusciremo a fare fare una serie direttamente a mia sorella questo qui potrebbe essere il primo episodio Dipende tutto da voi da quanti like lasciate da quante condivisioni fate insomma da quanto mi piace questo video Comunque il mondo lo creo io creiamo un nuovo mondo lo chiamiamo che ne so Trovate un nome Vabbè ok lo trovo io abbiamo capito Mondo Matilde va bene molto semplice molto classico modalità sopravvivenza mettiamo i comandi così almeno In caso succedesse qualcosa nel dubbio abbiamo la sicurezza il baule bonus lo mettiamo così sei leggermente più facilitata dato che non ci hai mai giocato su computer E detto questo creiamo il nuovo mondo Sei pronta matti dovrai sopravvivere la prima notte da sola su minecraft con i mostri sarà veramente difficile Ok allora siamo appena spawnati devi iniziare te per muoverti si preme il tasto W ASD come nell'altro gioco te lo ricordi perfetto vai quindi inizia inizia a muoverti inizia ad ambientarti Vai avanti poi vai a destra sinistra fai un po' di cose poi allora girati indietro con il mouse quindi prendi con l'altra mano il mouse bravissima intanto usa la tastiera Girati con il mouse gira il visuale brava dall'altra parte che altrimenti vai contro la tastiera Ok vedi quella cesta laggiù il tuo obiettivo adesso è aprire quella cesta guarda che il sole sta tramontando non so se è un tramonto o un'alba comunque sia speriamo che sia un'alba per te vai Puoi riprendere quella cesta quindi previ il tasto W brava ok ora per correre c'è anche un altro modo intanto qua devi saltare Vabbè c'è stato automatico perfetto vai apri la cesta tasto destro del mouse tasto destro del mouse no mouse mouse ok tasto destro l'altro bravissima ora clicca su un oggetto e trascinalo Clicchi lì clicchi prendilo e poi lo trascini tipo qui nell'inventare insomma dove vuoi che hai trovato sì hai trovato una cetta che non è male Poi prendi tutti gli altri oggetti allora io ti do un consiglio se te clicchi sull'oggetto e tieni premuto questo tasto prova prova cliccare sull'oggetto brava vedi che l'oggetto viene Automaticamente nel tuo inventario perfetto quindi tieni premuto col tasto e clicca su gli oggetti Questo? Sì vai quello lì clicca su tutti gli oggetti li prendi tutti prima o poi vai secondo oggetto dai vatti altrimenti ci vedete facendo otto Salmone bastone pane voilà poi legno brava legno perfetto bastone salmone bastone pane bastone bastone Asse perfetto finito tutto ora premiamo esc e te hai tutti gli oggetti della cesta all'interno del tuo inventario quindi hai già due panini Aspetta spostati un po' altrimenti non si vede l'inventario ok guarda due palini vedi sono questi qui perfetto poi hai anche il bastone hai i pesci le mele i legni insomma hai un po' tutto Quindi con la tua bella cetta in mano io direi di andare a prenderci un po' di materiale oppure un po' di legno e iniziare a costruire la nostra casa Prima cosa questa cosa qua la faccio io perché altrimenti è un casino facciamo la crafting table la crafting table ovvero il banco da lavoro è un oggetto che ci permette di creare nuovi oggetti Ora il tuo obiettivo è andare effettivamente a prendere questi nuovi oggetti quindi io direi iniziando a craftare a craftare niente perché hai già veramente tanta roba la cesta ha dato veramente un sacco di roba Quindi inizia a prendere il legno da quell'albero vedi che davanti a te hai un albero vai corri e prendilo Ora con la rotellina te puoi scorrere tra tutti gli oggetti dell'inventario vedi te quindi premi la rotellina gira la brava brava perfetto e vai sull'ascia Continua a girare finché non ti fermi sull'ascia vedi bravissima ora se te prendi le foglie non ti da niente Se te invece prendi il legno ti inizia a dare un po' di cose quindi brava inizia a rompere il legno perfetto Ora vai avanti continua a rompere le foglie finché non rompi tutto l'albero vai avanti Ora guarda un attimo vedi che è appena finito di rompere l'albero perfetto Vedi che qua ci sono tipo dei tronchi che galleggiano queste cose qua vai Vai lì a prendere buttati nell'acqua tanto non muori tranquilla Perfetto ora esci dall'acqua quindi tieni proprio spazio alla barriacola grande della tastiera Pallo con il pollice intanto con l'altro dito premi W perfetto brava ok Ora cerca di salire sopra perfetto bravissima e ora dobbiamo trovare un punto per costruirci una casa Perché altrimenti che cavolo facciamo Quindi apriamo subito l'inventario questo te lo faccio io e come al solito come prima facciamo questo crafting Quindi prendiamo tante assi di quercia in questo modo possiamo iniziare a costruire la nostra bella casa Libera scelta qua fai te come vuoi sulla casa non ti do nessuna nessuna limitazione Devi piazzare i blocchi con il tasto questo qui guarda perfetto E vedi che praticamente si piazza il blocco quindi te con doppia V ti inizia a muovere ti muovi dove vuoi E inizia a costruire la tua casa Ti do un consiglio farla molto molto piccola perché abbiamo solo 23 cubetti Quindi devi farla veramente molto piccola adesso ha 22 quindi ancora meno Brava perfetto ne hai già messi due ok Ora tenta a metterlo lì perché te lo mette sulla terra No rompi rompi quel blocco Ora hai già fatto la casa di due blocchi io direi piazzagli un altro blocco perfetto Poi io qui ti do un consiglio non andrei tanto avanti perché ti ripeto abbiamo veramente pochi 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 blocchi Se vuoi mettilo lì vai va bene mettilo un altro bravissima perfetto Ora vai un po' più avanti Ti stai mettendo una vita a costruire una casa perfetto vai Qua vai a destra brava inizia a costruire di qua perché altrimenti i blocchi non ci basteranno mai perfetto E ora lì no 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 là qui dovresti brava dovresti iniziare a piazzarci un blocco perfetto Fai il cerchio chiudi e hai già costruito diciamo la base per terra della tua casa Mamma mia abbiamo una nuova costruttrice in zona Guarda sto cavallo come ti vuoi Matti sto cavallo che ti vuole benissimo Uccidilo il cavallo Devi prendere l'accetta Brava hai l'accetta ora girati verso il cavallo Perfetto vai cammini in avanti Ok perfetto inizia a tirargli un paio di colpi Perfetto piano 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 perché altrimenti non funziona più Inseguile seguile correre dietro No non troppo forte devi aspettare che questa barra qui sia completa Vai tiragli un colpo Eeeh Attenzione incredibile Io ti voglio vedere contro gli zombie però Io direi che è ora di finire la nostra casa Ti do una piccola mano perché altrimenti è impossibile sopravvivere Ora hai la base della casa finita Arredala a te come vuoi Fai tutto quello che vuoi Quindi mettite Ma il letto come faccio? Eeeh il letto non lo puoi fare ancora Quindi per questa notte niente letto Allora vedi dove c'è questo spazio praticamente? Inizia a mettere i blocchi Secondo me ti conviene Solo sotto non anche sopra Perfetto brava In questo modo gli zombie non possono entrare Vai continua Perfetto bravissima Fallo in tutte le zone della casa Ok in questo modo gli zombie in teoria non dovrebbero entrare Ora c'è un'altra cosa che dobbiamo fare Vai continua È il momento di prendere il ferro I diamanti Tutte le cose insomma della miniera Ora ti do una piccola mano giusto per iniziare Dato che te non l'hai mai fatto Prima cosa Vedo se c'è qualche mostro fuori Oh cavolo Lo vedi quello? Meglio che non lo vedi Meglio che non lo vedi Guarda Quello è uno dei mostri più pericolosi del gioco Prendiamo questa qui No cavolo Mannaggia l'autosalto delle nuove versioni E direi di ritornare in casa Ora a noi ci servirebbe in realtà un po' di legno Questo qui lo piazziamo qua Guarda un po' che cosa ti costruisco Ti costruisco una bella pala In questo modo puoi iniziare ad andare in miniera Questo qui lo metto qua Questo qui lo metto qua E voilà Vai dove c'è la terra Vedi lì Verso la terra E inizi a scavare Sì Voilà Guarda un po' Ah Ora ovunque tu vada Sei perfettamente illuminata Avevo la torcia in mano Quindi adesso prendi l'altro piccone Non questo Prendi quello di pietra Quasi preso Perfetto E continua a scavare il carbone Orallo Il tuo obiettivo è prendere il carbone E poi se riusciamo La cosa migliore da fare sarebbe trovare anche il ferro E tentanto continua a scavare Vai perfetto Non troppo Matti Quello di no del carbone Vedi Carbone è questo qui E mi sa che hai trovato una miniera Matti Mi sa proprio che hai trovato una miniera Te continua a perdere il carbone Nel dubbio Allora non ce ne frega niente della miniera Vai vai Continua 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 Perfetto Mi sa che questo episodio finirà in miniera Perché siamo già a più di 20 minuti di registrazione Vai Continua Continua Voilà Continua Scava qui Scava le E voilà Guarda quanto carbone ti sei portato a casa Vediamo un po' Prendi questo 12 pezzi di carbone Niente male Bisogna metterlo Niente male Guarda un po' che cosa c'è verso il basso Oh cavolo Oh mio dio Oh mio Allora Allora Siccome che voglio far finire questo episodio in bellezza È una miniera di lava È una miniera Non ci posso credere Quindi Cosa si fa? Questo è proprio quello che non dovevo su Mezzo cuore Matti Siamo sopravvissuti con mezzo cuore Mezzo cuore Oh mio dio Oh mio dio Matti Guarda tutti i nostri oggetti dove sono finiti Questo è proprio quello che non doveva succedere Non doveva succedere Io ora Matti non ne ho idea di come salvarmi Cioè potrei fare un'azione pazza Ma no Quindi rompiamo sto blocco a mano Intanto la vita manco ci si rigenera Perché abbiamo troppe poche cosciotte O meno ci si sta rigenerando troppo lentamente Matti provo a fare un'azione pazza Oh mio dio Ce l'ho fatta Mezzo cuore di nuovo Matti abbiamo mezzo cuore Fai vedere Aspetta Aspetta sposa di qua Guarda mezzo cuore Mezzo cuore Oh mio dio raga Oh mio dio Lì intanto c'è ferro Lì ci sono cose Lì c'è carbone Potremmo fare un'azione suicida Io ci provo Non so se nelle nuove versioni funziona ancora Ok Però questa volta per una buona causa Questa volta No non è vero Matti ci servono i pezzi della casa Addirittura noi dobbiamo utilizzare I pezzi della casa che abbiamo costruito Per tornare in miniera E salvare i nostri oggetti Che io ho fatto cadere nella tua serie Sono un pazzo Sono un pazzo lo so E che cavolo Prima ce l'avevamo fatta con mezzo cuore Quintanto c'è lo zombie Vai via Oh mio dio Matti scusami ma Quest'azione purtroppo la devo fare per forza Vado qua sotto Ho mezzo cuore Perfetto Ora ho due cuori Quindi mi salvo in questo modo Ora ho esattamente un cuore in questo momento E ora dobbiamo scendere in qualche modo Solo che non ne ho idea di come fare Ma ci sono gli zombie Eh lo so che ci sono gli zombie Matti Ma io voglio riprendere i tuoi oggetti E non ne ho idea di come cavolo fare Qua però ci potrebbe essere qualcosa eh Questa serie diciamo che non è iniziata al meglio Se vogliamo considerare una serie Non è iniziata al meglio Però tranquilla che non finirà bene Non ce la possiamo fare Io voglio salvare i tuoi oggetti A meno che non lo facciamo nel prossimo episodio Però io volevo farlo adesso Giusto per sapere che i tuoi oggetti erano al sicuro Se i tuoi oggetti non sono al sicuro È un casino Ora qua Eh ma che cavolo Sto facendo delle cose completamente folli Allora Matti vorrei farti giocare a te in questo momento Il problema è che è un casino Perché ho fatto una cosa brutta Io vorrevo rimediare io il mio sbaglio Va bene Prendiamo un po' di terra Ok Non mi laggare Mannaggia te Prendiamo un po' di terra Perfetto Ho sentito qualcosa esplodere Non era un creep Oddio c'è un creeper Oddio c'è uno scheletro C'è uno scheletro No 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 Oh cavolo Tra tutto quello che potevano darci Favo volentezza Andate via Mannaggia voi Lì c'erano comunque altri loot del creeper Non mi andare a fuoco Oh mio dio no Matti Questo è il colmo eh Questo è il colmo Cioè no 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 Questo è il colmo Io direi che il primo episodio Ma ho giusto questa piccola sentazione Che potrebbe finire qua Allora Matti Le cose non stanno proprio andando Per il verso giusto Io non vedo l'ora di registrare Il secondo episodio Per vedere come continuerà Questa cavolo di serie Per vedere cosa riusciremo a fare Matti Tutti i tuoi loot sono là sotto Vincendo alla lava Non c'è modo di raggiungere A meno che non ci ingegniamo Un pochettino Però nel prossimo episodio Questa volta Io ho fatto il danno E te devi rimediare Non funziona così vero? Comunque Sono molto contento Perché sei riuscito a costruire La tua prima casa E sei riuscito a sopravvivere Più o meno Più o meno Alla prima notte Ci siamo divertiti anche oggi Quindi questo è l'importante E vi ricordo come solito Un bel like Se avrete il secondo episodio E un bel like raga Se volete che recuperiamo Tutti i suoi oggetti Che lei ha preso All'interno del nostro gioco E che sono vicini alla lava Matti in questo momento I nostri oggetti Sono vicini alla lava E stanno per andare a fuoco Ed è questo Vi ricordo di raccomando Iscrivervi al canale Per non perdere tutti i prossimi episodi E attivare la campanella Delle notifiche E facendo il tasto iscriviti E ovviamente Curma Non dimenticate di Seguirmi su Instagram Mi chiamo Magari riuscite a beccare Qualche foto insieme a me Insieme al mio cane Insieme a lei Qualche mia foto Insieme a me Cosa cavolo sto dicendo? Niente Spero che questo video Pazzo vi sia piaciuto Noi ci vediamo Alla prossima video Ciao Curma